Solo derby e qui a Torino vuol dire molto, quindi è inutile che stiamo lì a rimangare i vecchi tempi, quindi non si vive di ricordi, purtroppo la carta d'identità è quella che è e bisogna guardare avanti. I derby è bello per se stessi, ho fatto quello di Torino e ho fatto anche quello di Milano, quindi dico sinceramente, mi piacerebbe giocare questo, l'ultimo, il prossimo che si avrebbe, però non si può fare. Ma quanti derby ha fatto? Lei si ricorda? Abbastanza, stare lì adesso, ne ho fatti abbastanza. C'è ne uno in particolare che si ricorda? Ma no, sarebbe troppo facile dire quella scaramuccia lì con Giagnoni, poi siamo diventati molto amici insieme al signor Giagnoni, i derby sono tutti belli, l'ultimo è sempre più bello, peccato che non lo si possa giocare. Grazie a tutti. Grazie a tutti